La domenica gli spalti di Ponte Valleceppi si tingono di rosso e nero. Tifosi da tutta l'Umbria si riuniscono per seguire i Taolantat, la squadra tutta albanese nata nel 2012 dalla volontà di mantenere vivo il legame con culture e valori di una comunità attraverso lo sport. Dall'anno 90, i primi anni 90 che gli albalesi sono venuti in Italia e quindi l'idea è stata quella di rappresentare la nostra comunità, anche di togliere tutti i dubbi su di noi. Noi qui ci troviamo molto bene perché a parte è diventato come a casa nostra. La metà di loro, forse di più, sono nati qua in Italia, ma tengono di giocare per noi, per questa squadra, una squadra albanese. Siamo integrati benissimo e portiamo avanti questo progetto che è bellissimo. Siamo una piccola realtà, una piccola nazionale in Umbria, diciamo. Gioco per il mio paese, i compagni li conosco tutti. È un grande onore che veste questa maietta. Quando in campo vedi queste cose vuol dire che esistano ancora queste unioni, diciamo come è anche dimostrato nella nostra aquila, che è l'unione di un'aquila con due teste. Grazie a tutti.